Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha annunciato oggi le sue dimissioni, le ha annunciate in realtà, non le ha date, questo ha fatto sì che alcuni maliziosamente sostenessero che si tratta di una mossa tattica, cioè che Zingaretti minacci di andarsene in modo da essere richiamato a gran voce dai capi delle varie correnti DEM e poter quindi rimanere alla segreteria del PD ma con un margine di manovra maggiore. Io non credo che sia così, se queste fossero le intenzioni di Zingaretti credo che la sua mossa sia destinata a ritorcergli contro perché le parole che ha usato per descrivere il Partito Democratico sono durissime. Zingaretti ha parlato, ha detto di vergognarsi di un partito in cui si pensa solo alle poltrone e che è dilaniato dalle correnti. La verità è che il Partito Democratico continua in una sorta di agonia lenta da cui sembra non essere in grado di uscire. Zingaretti ha preso il PD in un momento in cui i DEM avevano raggiunto il livello più basso nella loro storia con il governo di Matteo Renzi, ma nonostante il cambio di leadership, nonostante il fatto che i DEM siano stati prima un anno all'opposizione del governo gialloverde, poi al governo con i grillini e ora sostengono Draghi, nella fase di opposizione, nella fase di governo, gli ha consentito di allontanarsi da quelle percentuali davvero molto basse che il PD prende ormai da molto tempo, oltre al fatto che nei territori, in tutte le elezioni regionali, in tutte le elezioni amministrative, ha ottenuto risultati disastrosi. La colpa è di Zingaretti? Non direi proprio. Il problema del Partito Democratico è la mancanza di una capacità di entrare in sintonia con quello che dovrebbe essere il suo popolo e questa mancanza, questa incapacità di parlare ai lavoratori italiani, a quella massa sterminata di cittadini che il PD nei suoi sogni vorrebbe raggiungere, dipende a mio avviso da un fatto, non dipende dalla forza degli avversari, ma dipende dalla sua intrinseca debolezza. L'esperienza del scorso governo con il Movimento 5 Stelle, ma anche questa con Draghi, tanto quanto i precedenti governi, le precedenti esperienze con Monti o il governo con Alfano, tutte queste esperienze mostrano un partito che è condannato a governare, ed è condannato a governare in base ai diktat del potere economico-finanziario e delle tecnocrazie europee. Il Partito Democratico ha ormai da vent'anni scelto di essere il referente italiano per eccellenza di quei poteri economico-finanziari, di quelle tecnocrazie europee che ormai il popolo odia e di cui il popolo ritiene essere una vittima. Per questa ragione il PD, che ottiene quei pochi voti che ha esclusivamente tra le fasce più ricche della popolazione, tra coloro che in questo sistema si trovano bene, non può aumentare i suoi voti, ma anzi li vede costantemente calare in maniera coerente, direttamente proporzionale al peggioramento della situazione sociale in Italia. Negli ultimi vent'anni la condizione sia di quello che un tempo la sinistra chiamava proletariato, cioè dei lavoratori o delle classi meno abbienti, sia la situazione delle classi medie, è peggiorata in maniera costante e a velocità crescente. Per questa ragione il numero di persone che sono pro-sistema e che quindi si rivedono nello storytelling, si potrebbe dire così, del Partito Democratico, diminuiscono costantemente. Più il Paese affronta una situazione di crisi sociale, più i voti del PD, che nonostante tutto rimane sempre al governo, ma non perché vinca le elezioni, ma perché il Deep State, chiamiamolo così, lo richiama costantemente, perché di fatto il PD ha governato negli ultimi anni, nonostante abbia ottenuto una sconfitta a livello di elezioni politiche come mai si era vista prima, e oggi viene sondato intorno al 19%. In realtà noi sappiamo che storicamente i numeri del PD nei sondaggi sono sempre maggiori di quelli che poi ottiene, quindi è molto realistico, è molto verosimile che di fatto i DEM siano intorno al 17-18%, cioè quel numero, quel risultato sconvolgente che ha ottenuto alle ultime elezioni politiche, che è stato visto come un disastro causato da Renzi, ma in realtà Renzi c'entra poco o niente, anche perché la sua Italia viva, Renzi ha abbandonato il PD come tutti sanno, dopo la vergognosa e indegna figura fatta con la conferenza strapagata dai sauditi in cui ha avuto il coraggio di dire che quella teocrazia medievale è un rinascimento. Renzi è ormai scomparso completamente dal vagone politico italiano e ultimamente i sondaggi lo danno tra l'1 e il 2%, che è il margine di errore statistico, quindi vuol dire che praticamente non esiste. Ma questo non ha consentito al PD de-renzizzato di crescere, perché? Perché, come dicevo, quelle classi massacrate dalla globalizzazione, massacrate dall'austerità europea, messe in croce nelle periferie delle nostre grandi città da un'immigrazione incontrollata da una insicurezza ormai totalmente acclarata, ormai le nostre periferie sono diventate come il modello delle città americane degli anni 80-90, cioè ci sono zone a Roma, a Milano, a Torino, a Napoli, a Palermo, dove la sera ma anche di giorno i cittadini non si arrischiano ad andare. Tutto questo è totalmente incompatibile con un appoggio della massa, di quello che è l'insieme delle classi medio e medio-basse verso il Partito Democratico, che è il primo responsabile di tutto questo. Non l'ha inventato a Renzi la globalizzazione che con uno spirito così fideistico il PD appoggia, non è stato Renzi a inventare l'austerità europea che ha massacrato le nostre imprese e anche l'approccio rispetto al Covid del PD è classicamente quello di appiattirsi completamente sulle opinioni, perché di questo si tratta dell'OMS, di denunciare un pericolo assolutamente devastante per il Paese, quindi chiusure e quindi scuole che fanno la didattica a distanza, che vuol dire alunni che imparano poco o niente. Insomma, tutte queste ragioni rendono il PD una forza completamente indigeribile e invotabile per la grande maggioranza degli italiani. Chi lo vota il PD lo votano i manager, lo votano i dirigenti pubblici, lo votano in una certa misura anche i dipendenti pubblici, perché sono quelle fasce tutelate che non sono state toccate dall'austerity, che non sono state toccate dalle chiusure, che non sono toccate dai lockdown, che hanno, come dice Matteo Brandi, il culo al caldo con un francesismo squisito e quindi quella fascia della popolazione sì, dà il suo appoggio al PD. Tutti gli altri lo vedono come il responsabile di un Paese che sta andando o in un certo senso è già andato allo sfascio. Ma nonostante i risultati disastrosi del PD, gli alleati non fanno meglio. Vi ho accennato i risultati da prefisso telefonico di Renzi, ma Renzi era stato descritto come, lo ricorderete qualche anno fa, come il nuovo perno della politica italiana, si parlava di vent'anni di renzismo, io ho sempre detto che sarebbe stata una meteora e così è, tra qualche anno, addirittura forse tra qualche mese non ne sentiremo più parlare. Ma dall'altro lato il partito, alleato strutturalmente ormai con il PD, il Movimento 5 Stelle, in questo abbraccio ha visto scomparire i suoi elettori, per le stesse ragioni per le quali il PD perde le elezioni, cioè le forze come il Movimento 5 Stelle trasformatesi in forze pro-sistema vengono abbandonate dagli elettori che questo sistema non lo vogliono perché ne trovano sulla propria pelle gli effetti. E quindi il Movimento 5 Stelle è adesso sondato intorno al 14-15%, se ci aggiungiamo il 18% del PD otteniamo dei risultati sconfortanti. Calenda, Renzi sono semplicemente irrilevanti a livello politico, mentre invece continua a crescere il centrodestra. La Meloni, con la mossa molto astuta di mettersi all'opposizione del governo Draghi, anche perché qualcuno quella parte in commedia doveva recitarla, sta vedendo ulteriormente crescere i suoi voti. Adesso è sondata intorno al 17-18% e vedrete che continuerà a crescere. Tra l'altro la Meloni ha recentemente fatto una mossa, a mio avviso, furbissima, cioè dopo essersi messa all'opposizione del governo Draghi, ha difeso Claudio Messora, ha difeso Bio Blu chiedendo un'interrogazione parlamentare per la censura, per gli attacchi a cui Messora, come tutti noi, va incontro in questo periodo da parte dei grandi della Silicon Valley. Questa è una mossa estremamente sottile ed estremamente furba, perché ponendosi all'opposizione di Draghi e difendendo la libertà dei, almeno a parole, la libertà dei canali di informazione indipendenti in rete, si candida a assorbire quel voto di protesta, quel voto antisistema profondo e radicato in ampie fasce della popolazione che in passato è andato al 5 Stelle. Ma se la Meloni cresce così tanto all'opposizione di Draghi, anche Salvini cresce pur stando dentro al governo Draghi, la rega ha ricominciato a salire. Se oggi si andasse a votare, il centrodestra avrebbe una vittoria così schiacciante che con la nuova legge elettorale avrebbe la possibilità di eleggere il Presidente della Repubblica come meglio crede in totale autonomia. Salvini e Meloni da soli potrebbero ampiamente formare un governo anche senza Berlusconi, quindi l'asse dei moderati e dei pro sistema che va dalla Boldrini fino a Silvio Berlusconi, tutto insieme verrebbe sconfitto da la Lega e da Fratelli d'Italia. Che cosa ci dice questo? Se noi a questo elemento ne sommiamo un altro, e cioè il fatto che il primo partito in Italia non è la Lega, come viene detto, ma è il partito del non voto, perché la Lega è intorno al 24, il non voto è intorno al 40, comprendiamo una cosa. Questo sistema che noi denunciamo da anni come ingiusto, iniquo, disumano, fallimentare, viene giudicato nella stessa maniera da parte degli elettori e quelle forze che, a torto o a ragione, come la Lega o il partito della Meloni sono percepite come più lontane dal sistema, vengono premiate, mentre quelle che sono considerate più strutturalmente vicine al sistema vengono punite. Ma questo significa che ci sono spazi enormi per un intervento politico, per un'azione politica che metta davvero in discussione, non a parole, non con gli slogan, ma nella sostanza questo sistema economico, questo sistema sociale, queste istituzioni ormai non più democratiche. E quindi sta a noi lavorare, mi riferisco a tutte le forze sociali, le forze culturali, le forze mediatiche, i canali di informazione, i soggetti politici, le associazioni, penso fra le tante a la MMT, tutti questi soggetti che hanno gli strumenti, che hanno l'ideologia, che hanno la strutturazione, la fiducia di una parte almeno del popolo che li conosce, devono ovviamente collaborare sotto varie forme per creare l'emersione, per consentire l'emersione di forze politiche ben strutturate, ben organizzate sui territori e che siano in grado davvero di proporre un'alternativa a questo sistema, perché ci sono praterie sconfinate per chi davvero vuole cambiare questa società e si deve puntare, a mio avviso, a tutta quella fascia di persone che non votano perché sono convinte che le forze politiche siano tutte uguali. E in effetti hanno ragione, le forze politiche che oggi sono in Parlamento sono fondamentalmente tutte uguali. Dalla società civile deve nascere una forza politica dal basso, con una capacità di analisi dei problemi sociali e di risposta a questi problemi che sia compresa e partecipata da parte dei cittadini e questo consentirebbe di avere enormi spazi di crescita e di creare un'autentica opposizione a questo sistema che in poco tempo potrebbe diventare un governo del popolo e dei cittadini. Se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale, va in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo.